buongiornissimo amici come state allora avete visto che il timelapse che c'è un tempo un po strano sa d'inverno e a tal proposito vi facciamo poi vedere anzi ve lo faccio vedere subito che è iniziato a nevicare sul margoreis veramente raro di questi tempi quindi è da far vedere ecco laggiù nevica sul margoreis e le montagne tra l'altro sembrano molto più vicine perché l'aria si sta un po seccando nelle prossime ore nevicherà in mezzo diverse zone delle miglia noi invece qua no forse potrebbe per sbaglio quella neve arrivare verso serata ma ma stasera ma non lo so guarda anche pioggia so che un anno fa in questo momento avevamo 110 centimetri neve al solo ed era 70 centimetri in 12 ore era pazzesco il video mi sembra che si chiami ma quanta neve ma quanta neve oltre ma quanta neve oltre un metro una roba del genere se vi capita andate a vederlo si è un video che a noi fa venire da piangere vedendo come adesso ma non disperiamo il 18 gennaio sta si simone se mi sentesse il 18 gennaio e certo santa bibiana se ne va in vacanza e magari cambia il meteo cosa facciamo oggi oggi praticamente portiamo prendiamo il trattore motosega portiamo a casa delle fascine che gentilmente piero antonella ci hanno ci hanno lasciato e allora le portiamo a casa andiamo solo recuperare col trattore prima che appunto magari la pioggia la neve mettiamo tutto riparo adesso però vi faccio vedere qualcuno di voi magari lo sa già vi spiego un attimo un trucchetto che mi ha detto andreino mi ha inserito andreino per far tagliare di più la motosega oltre a tutti quelli che avete già detto voi però non mi sembra di aver letto questo trucchetto nei vostri commenti quindi magari qualcuno di voi non lo sa e può essere una cosa utile per non andare spesso a buttare via delle catene prima del dovuto quindi prima di iniziare vi faccio vedere questo per me è un segreto che non conoscevo e poi andiamo subito là in fondo laggiù a prendere le fascine sì e nel bosco lassù perché piero ha staccato un pezzo di castagno che ci dà perché allora andiamo andiamo a recuperarlo lo portiamo giù è un castagno che si brucerà poi tra due o tre anni perché come ben sapete il castagno ha il tannino però qualcuno non mi ricordo chi forse sandrino aveva detto se tu lasci quel castagno lì lo lasci lo tagliamo sotto l'acqua no lo parti sotto l'acqua però lo mettiamo dove c'è luce le caprette succhiano succiano il tannino quindi potrebbe 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 aiutarci a farlo seccare non so se non lo so a me sembra di averlo già sentita sta roba mi sono affascinato dalla bellezza di quelle montagne vabbè è bella la luce così almeno sa un po di inverno a maggio c'era più neve a 3 a 2 mila metri c'è la chiamata di dio sì noi la chiamiamo la chiamata di dio ve la faccio vedere quella per noi la chiamata di dio esatto veramente bella stupenda ragazzi spero voi vi siete riposati noi sì stamattina ho dormito dalle otto e un quarto di ieri sera alle sette venti non ho neanche praticamente ero cottissimo dovevo recuperare un sacco di di stanchezza un sacco stanotte vado io mi sono svegliata a mezzanotte vabbè parlavo vabbè ogni tanto succede che parlo da sola da vado a prendere la motosega vi spiego velocemente cosa mi ha detto andreino e poi andiamo di corsa perché poi arrivano gli ospiti e ci sono già calda stasera di nuovo atmosfera pensa che sarei contento tra l'altro due coppie in due state diverse che raggiungono il b&b a piedi da vigna ascoltando il nostro consiglio per cui per noi è fantastico che riusciamo a portare sempre più gente da noi a piedi sarebbe un sogno incredibile ci piacerebbe un sacco perché secondo me fa bene fare questo piccolo percorso di avvicinamento al b&b a piedi passando la vigna perché c'è modo di andare al panatea conoscerli ma soprattutto c'è modo di staccare la tessa per un chilometro e mezzo e arrivare da noi già rilassati pensateci se verrete nella prossima settimana tanta roba vado a prendere la motosega allora tanto oggi utilizzeremo questa qua piccola perché sono solo delle ramaglie praticamente andreino mi ha spiegato che bisogna andare a regolare questa parte qua il dentino davanti perché deve essere più basso allora praticamente questo dente deve essere più basso di questo no aspetta sto dicendo una cavolata aspetta un secondo i due che sono uno di fianco all'altro sì ecco questo dentino qua va limato di continuo lo zoom così ok quello lì questo dentino qua deve essere sempre più basso di questo qua se no non ti permette di tagliare bene quindi questo più basso di questo un colpettino veloce col flessibile ok serve a far sì che la motosega brandi di più ci si mangi di più legno non troppo perché sennò poi ti tira in avanti nel legno ok però molte volte succede che si va per far per cambiare la catena dicono eh no la catena è già andata perché non taglia più bene in realtà pochi ti spiegano veramente che questo dentino qua più piccolino va un po abbassato col flessibile ma non giusto una una passata ok in modo che si riesca a a mortare di più io l'ho già provata l'altro giorno lontano dalle telegamare ed effettivamente brandava un sacco adesso proviamo andiamo direttamente lì poi prendiamo il trattore e vediamo perfetto anzi sai cosa farei io visto che la catena appena fatta si da quello lassù si dai castagno piccolini si e poi veniamo qua sotto ok boh ci sta decidiamo se vanno va bene prendiamo però veniamo su a piedi un attimo ah va bene ma si poi massimo carichiamo col trattore perfetto dom qualcuno ci ha scritto che modello sono di scarpone antitaglio la più parità di che modello sono dentro il modello gabri ma sono fatti così ma non sappiamo qual è la marca mentre i guanti e i pantaloni sono squarna squarna andiamo lassù esattamente quel pezzo lagno a recuperare di là c'è la nostra amica luce luce ciao amore luce carina come va 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 Simo ha deciso di prendere il trattore tra un po' lo vediamo passare eccolo il ferrarino coccinella luce ciao ma monta hai preso le chiavi che problema ha? tiro solo un po' la catena ah ok ciao 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 io ho messo troppe maglie ho sbagliato mi sono fatto illudere della neve lassù si ma effettivamente non fa così freddo no ci sono 6 gradi e mezzo 7 solitamente fa molto più freddo allora così qua c'è tutta la roba che tra l'altro in parte è già secca si alcuni sono già secchi alcuni quelli grossi sono too big ancora da potremmo ascoltiamo i vostri consigli se veramente Lucio può fare qualcosa io li metterei laggiù da loro però adesso cosa facciamo? adesso portiamo giù tutto ok poi al massimo li portiamo da Lucio però diciamo una cosa che Lucio è una capra che non sa di essere una capra ma sa di essere un'asina vi raccontiamo questo particolare qua perché è veramente divertente carina perché Lucio pensa di essere un'asina ma si fa tutto quello che fa Cucinella nel senso che il mio cognato ci ha detto le capre sono molto molto schizzino loro se c'è il fieno per terra non lo mangiano quindi tutto il fieno che c'è per terra te lo mangia poi Cucinella idem per il fioccato il fioccato uguale dovete dargli una vaschetta a parte perché loro sono schizzinose la capra ti mangierà tutti i castagni niente no no sono da controllare non c'è nulla è un'asina è un'asina vestita la capra poverina lei crede di essere un'asina glielo dici tu glielo dico io non voglio dirglielo però è lei praticamente pensa di essere la sorella gemella ha tutti gli effetti di di Cucinella si vede nera che carino è un'asina che non sapeva c'è una capra che non sapeva di essere un'asina lo chiamiamo così il video no è un'asina che non sapeva di essere una capra è un'asina una capra che pensa di essere un'asina è una capra che pensa di essere un'asina così chiamiamolo così una capra che pensa di essere un'asina eh sì questo è un particolare non dà poco lei è lì guardala lì luce luce si 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 di fatti mangi mangia foglie e castagne come se fosse un'asina così quando mangia sembra di essere bernie dai bernie bernie mangia adesso andiamo giù iniziamo a caricare il trattore e fare le ramaglie la motosega branda molto di più ma secondo me devo ancora fargli un po' il filo però dai il grosso è andato si il grosso era qua sul pendio adesso c'è solo da farlo laggiù in piano per cui ormai è andato ormai è una passeggiata ciao no allora abbiamo portato tutto giù di dietro però visto che ancora chiaro tagliamo ancora un po' qua così anche se diventa un po' scuro stiamo in sicurezza non rischiamo di far cavolate secondo me a mano qualcosa si riesce tu provi un po' a mano però quelli più grandi mi sa che certo li tagliamo pare da un metro che ci siano sulla pala perché poi ci sta tra altre cose ha spolverato sul marco era il spettacolo qui ovviamente non ha fatto niente continua il seccume andiamo avanti se non diventa buio sì sì andiamo qua sì arrivo buccia giù è un petunico secco Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah C'è il nostro corso gratuito. Questa sembra scaricare E poi scariciamo ancora quelli? Si Dai Io scarico in cortile di fianco all'altra però Aspetta non neve che non piove non fa niente Mettiamo lì in maniera un po' ordinata così anche per chi non so non dà fastidio Ma vengo con te così ti aiuto Si Io magari porto qualcosa a piedi Ok Ciao 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 Allora avete visto routine quotidiane varie Regali inaspettati La capra che pensa di essere un'asina Un casino Un caos E ora però dobbiamo ancora fare almeno uno barra due giri sicuri Però noi partiamo già con le conclusioni perché si sta facendo un po' buio Dovemmo fare in fretta perché gli ospiti vogliono farla tinocca E quindi ci fermiamo anche perché sono le quattro poi la borgata deve riposarsi E le giornate vanno avanti Si Questo B&B rurale come ho detto qualche puntata fa ormai penso 100 puntate fa non lo so Sta prendendo sempre più piede La canzone del giorno non la so Potremmo che citare un Nello Antonello Venditti Antonello Venditti scatole vuote Piene di silenzi Scatole vuote Piene di silenzi Conto le scarpe che mi portano via Do chi sei quello che tu Io voglio solo che tu resti con me Da Tetto Cavani E tutto A voi la linea ricordandomi una cosa importantissima Viva la montagna sempre Ma soprattutto viva Cuneo Cuneo Viva Cuneo Ciao amici alla prossima